Sulle due prime pagine lo stesso tema, la gordina è pericolosa, sarebbe da spostare. Lo dice il Gazzettino, a gordina pericolosa è da spostare, lo dice il Corriere delle Alpi, verifiche con i rocciatori, la 203 è priorità bellunese. C'è attesa per la perizia geologica, dopo che un'auto è stata centrata da un masso, non si è trattato di una frana, si è trattato di un singolo masso caduto dal versante ripidissimo sotto il quale passa la strada, attesa per la perizia geologica sul versante da cui c'è stato il distacco, la pioggia rallenta i controlli e Veneto Strade dice non c'è budget, cioè non ci sono soldi, per allontanare la strada dal fianco della montagna. Questo sul Corriere delle Alpi, sul Gazzettino, vediamo di approfondire su questo giornale, a gordina pericolosa è da spostare, dicevamo nel cassetto da 15 anni il piano di un geologo, e la foto ci mostra un volto assai noto in provincia di Belluno, si tratta di Vittorio Fenti, per mettere in sicurezza il tratto dove un masso ha centrato un'auto. Ieri, sopra il luogo di Veneto Strade, sul luogo dell'incidente, ci sono 200 metri di costone che devono essere sistemati. Allora, stiamo parlando della parte bassa della 203, quando siamo già nella vallata del Cordevole, ma è ancora comune di Sedico, vari tratti della strada, molto scorrevole, corrono proprio di fianco alle rocce, lì sopra ci sono delle banche, ci sono dei versanti dove gli alberi da vaia sono stati smossi, il terreno è stato smosso, serve meno burocrazia e più fatti, già nel 2008 evidenziai la pericolosità di quella strada. È perentorio il tono del professor Vittorio Fenti, noto geologo di Agordo, nel commentare la tragedia sfiorata domenica sulla gordina. 15 anni fa, racconta Fenti, ho elaborato uno studio per conto di Anas, e avevo previsto di spostare la strada fuori dalla verticale, quindi limitando il rischio di caduta sassi. Allora la 203 era statale, ora è regionale e il gestore è Veneto Strade, ma la situazione non è cambiata in tutti questi anni, nessun intervento radicale, ma solo opere in somma urgenza. Avete capito? Questa tecnica è stata già utilizzata in altri luoghi, mi viene in mente per esempio la strada che da Caprile sale verso Selva di Cadore, lungo il torrente Fiorentina, lì c'era nella zona di Marzeluc c'era un frequente problema di caduta sassi dalla verticale, hanno spostato la strada di pochi metri, il vecchio sedime stradale fa da luogo di raccolta di ciò che cade dalla parete, in pratica, e la strada è stata messa al sicuro. Immagino che il geologo Fenti pensi a una soluzione del genere, cioè tirar via la strada dalla verticale proprio delle rocce. C'è pagina 2 e pagina 3 del Gazzettino, questa rassegna stampa l'abbiamo cominciata così, benvenuti a tutti, oggi è il 6 giugno, martedì 6 giugno, rassegna stampa di Radio Piave in blu, dedicata ai quotidiani bellunesi, Gazzettino e Corriere delle Alpi, come sempre, come sempre condotto da noi, dell'amico del popolo, noi giornalisti, buongiorno da Luigi Guglielmi. Allora, pagina 2 del Gazzettino, ci sono le foto ancora impressionanti del sasso. Non si tratta di un sasso enorme, sarà un sasso grande, non so come, un po' più di un mattone, ecco, però, un paio di mattoni, 3-4 mattoni, però chiaramente caduto giù da chissà quale altezza, è chiaro che ha sfondato il tetto di un'auto, per fortuna non bucandolo, per cui si è solo danneggiato molto, ma la macchina è rimasta a protetto, insomma, chi era all'interno, e all'interno c'era una famiglia intera, se arrivava a colpire le persone, provate a immaginare cosa poteva essere, anche se colpiva il parabrezza, cioè, se cadeva, se la macchina fosse arrivata una frazione di secondo più tardi a quell'impatto. Quella strada va spostata, dice il titolo, nel cassetto da 15 anni, il piano per la messa in sicurezza della gordina dal Peron a Castei, del geologo Vittorio Fenti, ci sono molti tratti in cui basterebbe portare la carreggiata a ridosso del torrente Cordevole, allontanandola dalle rocce, ma poi sappiamo che c'è anche il problema della vicinanza al Cordevole, che ogni tanto esonda, crea problemi a sua volta, anche di erosione, infatti la strada in certi casi è stata allontanata dal Cordevole per questo motivo, quindi non è facile, lo sappiamo, in queste nostre vallate la viabilità è e resta un problema principale. Teniamo conto che questa è l'unica strada di collegamento per una popolazione intera, quella della Gordino, e diciamolo, è anche l'unica strada di collegamento per le attività commerciali e industriali dell'intera zona, che vuol dire dal turismo e soprattutto cosa ci viene in mente, Luxottica e le altre aziende grosse di quella vallata. Serve meno burocrazia ai più fatti, appunto, dicevamo, il tono è perentorio, di Vittorio Fenti. Il piano c'è, è pronto, quello del geologo Fenti, ci sono molti tratti in cui basterebbe spostare la strada anche solo di 20 metri, spiega il professore, collocarla, quindi più a ridosso del Cordevole, allontanandola di conseguenza dalle pareti rottose. Penso sarebbe possibile farlo allora come oggi, utilizzando semplicemente dei mezzi meccanici che realizzino gli scavi, si tratta solo di fare il nuovo sedino, dice Fenti, quindi neanche queste spese mostruose. Lo spazio ci sarebbe e non sarebbe necessario intervenire ulteriormente sulle pareti rocciose, quindi anche con un risparmio in prospettiva, un sogno, perché la burocrazia non aiuta, Vittorio Fenti sottolinea, il mio però è stato solo uno studio generale che per rendere attuabile sarebbe necessario poi fosse seguito da un progetto, seguito da delibere, permessi, oltre che da coperture economiche, in realtà esistevano allora, quando la strada era dell'ANAS, e penso che esistano anche adesso troppi intoppi burocratici, specie quelli del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che rappresentano un ostacolo serio, specie con riferimento ai vincoli che lo stesso pone a fronte della realizzazione di opere di questo tipo. Se volete leggere la continuazione dell'articolo, appunto, siamo a pagina 2 e 3, va a scavalco del gazzettino di Belluno, in basso, vedete questo volto, questo è il papà che guidava l'auto, di fianco c'è suo figlio, il volto pixelato, Andrea Farnè di Abano Terme, è sua, l'autocentrata. Poteva essere una strage, i sindaci facciano pressing per sistemare quel tratto, chi dice queste parole, proprio lui, è la voce di quell'uomo che può dire di averla scampata bella sul serio. Veneto Strade ci dice, pagina 3, al lavoro sul distacco, 200 metri di costone da sistemare, ieri sopra il luogo dell'esperto incaricato dall'ente, ma l'intervento sarà complesso, con rocciatori, intanto sui social la rabbia di un automobilista, mai risarcito, feci causa per 5.000 euro di danni. La foto è quanto mai significativa, perché ci mostra appunto i detriti sulla strada, non so neanche se si riferisca a questo fatto in particolare, però questa è la situazione, vedete, per chi non conosce i luoghi, amici di Radio Piave, poi l'invito come al solito di andare a vedere questa rassegna sui nostri social, la strada, ci sono tratti in cui la strada corre proprio a ridosso della roccia verticale, sopra ci sono metri e metri di roccia verticale e sopra ci sono delle banche, si chiamano dei nostri dialetti, dei piccoli terrazzi, insomma dove c'è vegetazione, dove c'è erba, terra, sassi e questi sono stati smossi da vaia e ogni tanto quando ci sono piogge, come in questi molti giorni, succede che poi venga giù. Qui si ricorda la frase di Vernizzi, l'ex amministratore delegato di Veneto Strade che diceva dopo vaia ci vorrà tempo prima che si stabilizzi il versante, solo sulla 203 dice l'articolo dopo la tempesta del 2018 sono stati investiti 3 milioni di euro per cantieri di grande urgenza, va così, va così. Diciamo che sono passati, siamo al quinto anno dopo vaia, arrivano i cinque anni nell'ottobre prossimo, quindi tanto, tanto, un lustro però vaia ce l'abbiamo ancora davanti agli occhi e non parliamo del vostrico, di quello che ancora resta da fare sulle foreste. Il giornale dedica, il ghezzettino dedica molto spazio anche alla festa dei carabinieri, ladri e truffatori, ne smascheriamo uno al giorno. Grande spazio sui due quotidiani, se volete vedere ci sono foto per tutti i gusti, fermarono i premiati perché fermarono la banda dei furti, altri risolsero la rapina al parco, contrasto alla violenza di genere, stroncarono i colpi nelle case, bloccarono lo spaccio di droga, insomma ci sono tutti nomi, foto, premiati e alla fine in taglio basso di questa pagina si vede il comandante provinciale, il colonnello Enrico Pigozzo, che è su un commento, insomma dice le comunità si affidano a noi con fiducia, cioè ai carabinieri e noi, noi carabinieri, le serviamo con orgoglio ed emozione. Ecco, altra notizia importante di questi giorni, la bimba morta nel parto, sapete che c'è stato, sono circolate anche, ci sono delle indagini in corso su quello che è successo, morta nel parto all'ospedale San Martino di Belluno, bene, i primi esami dicono che la bambina in pancia era sana, non aveva problemi, ma c'è stata la rottura dell'utero. Ieri le prime risposte all'esame sulla piccola nata morta nell'unità di anatomia patologica c'erano otto consulenti, ci vorranno ora tre mesi prima di avere certezze su quanto avvenuto il 26 maggio scorso in sala parto al San Martino. Vi segnalo anche nel taglio basso di questa stessa pagina l'intervista a Maurizio Busatta, che parla a nome della Fondazione Montagne Europa Arnaldo Colleselli, che si è ricordata dell'anniversario, del compleanno del progetto Montagna, con quella legge si aprì una stagione nuova per la montagna e Busatta, intervistato da Daniela Dedonà, spiega perché. Quindi se volete un approfondimento, l'articolo è anche agile, insomma però ci permette di ricordare quel passaggio importante. C'è in arrivo una data importante in provincia che è la del ciclismo, per il ciclismo la 24 ore, che si correrà a Feltre, purtroppo perfettamente in contemporanea con l'arrivo degli alpini a Belluno, quindi una pessima sovrapposizione perché ci arriva notizia di difficoltà a reperire sistemazioni per quelle notti e così invece di poter catturare due volte un pubblico importante che arriva a Belluno, dovremmo accontentarci di vedere questi eventi sovrapporsi, lasciando anche difficoltà tra le persone che vogliono arrivare. Non bene, diciamolo. Volontari Hauser Circolo Elbroi, 50 persone per le consegne nella valle, si fa il punto sulla situazione, Eliana Olivotto vince il concorso dedicato a poesie in vernacolo, Rugby Lafir, Bacchetta Alissa Dinka, si informi, era il protocollo, c'è stata una vicenda in partita che ha avuto qualche strascico. La foto centrale del Gazzettino di Belluno è dedicata proprio alle cerimonie per la festa dei carabinieri, furti e truffe, scoperto l'84% dei responsabili 40 anni fa, la prima legge sulla montagna, il lancio in prima, Borgo Valbelluna rinasce il cinema verde, avrà 140 posti, il lancio in prima sulla neonata morta per la rottura dell'utero materno, autopsia con 8 consulenti, da chiarire se si poteva intervenire in altro modo, vi leggo il breve lancio a firma di Bonetti. La bimba era sana, sarebbe morta per la rottura dell'utero della mamma sulla cicatrice del precedente taglio cesareo, queste le prime risposte arrivate dall'autopsia effettuata ieri nell'unità di anatomia patologica di Padova sulla piccola nata morta all'ospedale San Martino di Belluno il 26 maggio scorso, resta da chiarire adesso se la rottura dell'utero poteva essere evitata o se si poteva intervenire in tempo evitando che compromettesse il parto ad esempio con un cesareo. Queste sono decisioni difficili probabilmente da prendere da parte dei sanitari e sono difficili le situazioni da chiarire adesso da parte degli inquirenti. Feltre appunto dicevamo la Castelli 24 ore, ciclismo, venerdì la città sale sui pedali e poi ci sono le dichiarazioni raccolte da Marco Di Bona di Padrin, sindaco di Longarone, oltre che presidente della provincia, che si rivela molto scettico sulla possibilità che la variante di Longarone, cioè l'allungamento dell'autostrada da Pian di Vedoia fino a superare Longarone, lui ha molti dubbi sul fatto che possa essere pronta per i giochi, improbabile dice. Cortina d'Ampezzo e la provincia di Belluno aspettano che il governo sblocchi l'iter dei lavori per i giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, tra le opere più attese del piano regionale è la variante di Longarone alla statale 51 di Alemagna per oltre 395 milioni di euro, ricordate, abbiamo già parlato nei giorni scorsi, questi altri 400 milioni, con gli olimpiadi stanno arrivando un sacco di soldi, che consentiranno di ridare vita a Longarone che ogni fine settimana è completamente paralizzato del traffico che scende e sale verso il cadone. Per questa opera è stata posta la condizione per una entrata in esercizio prima dell'evento olimpico, e lo viene messo tra virgolette, un termine che Roberto Padrin, sindaco di Longarone, presidente della provincia, ritiene però inappropriato, questa è la frase di Padrin, vedo alquanto improbabile il completamento per il 2026 di quest'opera così complessa. Poi Marco Di Bona, ciao Marco, approfondisce a pagina 11. Vi leggo un altro titolo di taglio basso del gazzettino di Belluno, Pieve di Cadore si chiude un'era, sarà demolita la colonia della magnifica, della magnifica comunità di Cadore, a Caorle. L'ex gioiello marino a Caorle della magnifica comunità di Cadore, c'è anche una foto, è pronto alla demolizione. Si chiude così con la tabula rasa la vicenda dell'immobile che ospitò nelle lunghe estate generazioni di bellunesi. Il progetto venne affrontato dal consiglio comunitario l'8 ottobre del 1948. Adesso andiamo a vedere Corriere delle Alpi, però prima, perché mi sento in dovere, anche professionalmente, vi mostro una cosa che c'è sul gazzettino nazionale, in prima pagina del gazzettino nazionale, e cioè vedete questa questa persona, questa fotografia, amici della radio, ve lo racconto, c'è un signore con l'aria distinta, elegante, col volto piuttosto perplesso, dietro si vede una grata, siamo in tribunale, a Mestre, si va avanti con l'esame della, purtroppo, delle vicende legate comunque alle attività mafiose. Bene, avevamo dato la notizia tempo fa, adesso va, va dato un aggiornamento doveroso, quest'uomo è l'ex sindaco di Eraclea, che era stato anche arrestato per vicende mafiose, si trama, si chiama Mirko Mestre, e ieri è stato assolto. Mestre, l'ex sindaco assolto, ma quanta sofferenza. Allora, ripeto, noi giornalisti dobbiamo darvi le notizie mano a mano che accadono, però quando si tratta di fatti processuali, mi raccomando, dobbiamo averne tutti l'avvertenza, bisogna aspettare che si arrivi a mettere la parola fine, e la parola fine può essere anche totalmente diversa da quello che si dice all'inizio, come in questo caso, quest'uomo è stato ovviamente su tutti i giornali, perché un sindaco poi di un paese così noto come Eraclea, di un comune così noto, che viene addirittura accusato di legami con la mafia, capite che è una cosa gravissima, in realtà l'esito è totalmente diverso. Eraclea, Maxi Pena, perdona Dio, che sarebbe il ritenuto il capo, ma il clan dei casalesi non c'entrano, quindi sì, mafia, ma non in rapporto con i casalesi, e poi in taglio basso, dalla cella al fatto non sussiste, assolto l'ex sindaco di Eraclea, vi dicevo, si chiama Mirko Mestre. Immaginate quanto ho sofferto, dice, e possiamo credergli. Quindi insomma, mi raccomando, cerchiamo di tenere presente questi sviluppi quando avvengono, perché è fondamentale tenere presente come vengono risolte poi queste vicende. Infatti, Corriere delle Alpi, sotto il titolo c'è la sentenza su Eraclea e l'anomalia dei criminali, c'è la foto del principale indagato, qui prima non viene lanciata la notizia della soluzione per il sindaco, per l'ex sindaco, ma capite l'importanza di questo fatto. Foto centrale del Corriere delle Alpi, dedicata ai carabinieri e la festa dei carabinieri, si intuisce che siamo davanti alla prefettura, a passare in rassegna le forze, col saluto militare c'è il colonnello Pigozzo, di fianco a lui l'impermeabile blu, il prefetto di Belluno. Mitsubishi si fa avanti per gli esuberi della Safilo, cioè le persone che non saranno assorbite da Telios potrebbero essere, e da Marcolino, potrebbero essere prese dagli stabilimenti dell'Alpago, i sindacati sono contrari allo spezzatino, ma si farà quel che si può. Cortina, super bonus ai due dirigenti, parliamo del comune, sul piatto 90 mila euro, Val de Noguer festeggia la ritrovata osteria, spazio al mini market, feltre, manutenzioni, antiallagamenti, interventi su 800 tombini, l'autopsia nata morta alla bambina, la tragedia all'ombra dell'epidurale, questo è il lancio in prima sul Corriere, poi le storie del Corriere in taglio basso, le nostre storie ci informano che tra le persone in gara che annunciano la propria presenza per le 24 ore Castelli di Feltre, che partirà venerdì alle 21, c'è la coppia, una coppia famosa sui rotocalchi, che è quella costituita dalla showgirl Melissa Satta e dal campione di tennis Matteo Berrettini, che a quanto pare saranno a Feltre, che saranno a Feltre proprio per correre sui pedali, quindi con un ruolo insolito per una showgirl e per un campione di tennis. Io con questo mi fermo qui, vi auguro una buona giornata, buon martedì 6 giugno da Luigi Guglielmi, seguiteci su www.amicodelpopolo.it e ovviamente su Radio Piave. Ciao ciao!